Inizio, 2, 1, inizio, inizio e inizio! Meglio dire, un upgrade a livello grafico, a livello di level cap e di altre cose. Ora, riesco un attimino all'esterno per farvi vedere e qua voglio fare una riflessione. Soluzioni spaziali, che è Spacer Chiles, insomma. Allora, che cosa è successo? Allora, il gioco è stato aggiornato, upgradato, è aumentato il level cap, vi consentirà di poter apprendere più abilità grazie appunto al level cap. È stata aggiornata la grafica, è stata resa più bella ed effettivamente un upgrade si vede ed è anche uno dei motivi per cui su Steam vanta parecchie recensioni negative per la mancata ottimizzazione. Ma secondo me sono cose che risolveranno. Ora, non ho un lavoro. Ok, perfetto. Allora, adesso sto saltando. Va bene, va bene, va bene, perfetto. Allora, vi faccio vedere. Graficamente è migliorato tanto, lo potete vedere anche dai trailer che hanno pubblicizzato su internet, sul tubo, insomma sui canali del gioco. Ed è cambiato tanto, soprattutto come illuminazione. Ora, dovete fare attenzione a una cosa però. Il gioco effettivamente si percepisce che è molto più pesante e i 60 frame non li faccio. Ho una 2080, non ti hai, quindi è una 2080 per comuni mortali. È stato il mio investimento di tre anni fa. E devo dire che con questi ultimi giochi, con effetti particellari e grafica pompatissima, anche in Full HD faccio fatica. E non ho i 60 fotogrammi, immaginiamoci in 4K. Una delle cose importanti che dovete ricordarvi è che nella grafica c'è questa spunta qua, la risoluzione dinamica, che fa cambiare tanto. Perché lui regola come fosse il gioco, fosse uno streaming video di un qualche tipo. Vi cambia la resa in base agli FPS, i frame, che il vostro PC eroga. Il problema è che si arrivano a vedere delle cose veramente brutte e quindi io l'ho disattivato. Ora, non riesco a farvi vedere, ma possiamo vedere anche gli effetti sulla persona. Allora, questa è una persona comunque con un buon dettaglio. Ora, attivo questa impostazione. Non dovrebbe farmi riavviare, ma in questo caso abbassa la risoluzione per aumentare la qualità. Ed effettivamente non si vedono troppe differenze. Ma qualora gli FPS calassero, è impercettibile. Ma si vede che il fondo, per consentire una migliore fluidità, viene sfocato. E può risultare, fa un po' l'effetto miope. E tra l'altro scatta comunque. E tante cose risultano un pochino fumose, un pochino prive di dettaglio. Io ho visto un corpo, a un certo punto, che potevo lutare. E ho detto, cavoli, vedete, il corpo è questo. Un corpo è questo. Ma non rende tanto di dire. C'è questa cosa un po' seghettata nei contorni, no? Io adesso torno nel menu di prestazioni, lo disattivo. E secondo me si vede decisamente meglio adesso. Comunque. Adesso non so se volete confrontarlo con prima, ma un minimo di differenza, ecco, l'ho vista. E il gioco, in sintesi, che cos'è? Obsidian ha sviluppato questo titolo. È un gioco di ruolo che ricorda, per certi versi, un fallout. Come meccanica è la possibilità di mettere in pausa tattica e quindi sparare a determinati punti deboli dei nemici. È un tempo limitato. Tanto loot. La mappa, insomma, con la possibilità di fare il viaggio rapido. Avete un'astronave, che è questa. La prendete poi per vicissitudini che sbloccate praticamente subito nell'avventura. E viaggerete su vari pianeti, affrontando vari problemi. Vari questa e così via. Avete un inventario con la gestione delle armi, la possibilità di potenziarle, di ripararle. Avete la possibilità di utilizzare i consumabili per potenziarvi o per curarvi. Avete le modifiche alle armi e tutto il resto. Il personaggio è questo. Il personaggio è diviso in sei caratteristiche che all'inizio mettete. Diciamo io ho speso i punti su queste. Intelligenza, percezione e meno su fascino e destrezza. Avete le abilità che a ogni livello potete aumentare di 10. Un tot di abilità le potete aumentare. Fino a, mi pare, a un 50, mi pare. E dopodiché a ogni livello potete, ogni punto non è un più 10 ma un più 1. E quindi pian piano andate a potenziarle. E questo vi va a cambiare le prestazioni. Ad esempio io ho 20 armi di fuoco lunghe, armi da fuoco lungo. A 20 ho sblocca effetti, aria colpita durante i DTT. A 40 ho danni critici, armi da fuoco lunghe più 50%. A 60 danni dei colpi alla testa, i punti deboli con armi da fuoco lunghe più 20% e così via. Fino ad arrivare a 150 dove sono virtuoso. Stessa cosa magari per l'hacking o lo scassinamento. Io adesso ho 16, a 20 sblocco gratuitamente porte e contenitori per cui serve un green magnetico. Perché? Perché abbiamo delle risorse che noi consumiamo ogni volta che scassiniamo qualcosa. Stessa cosa l'hacking. All'inizio del 20 e del 40 accediamo gratuitamente ai distributori automatici. A 60 possiamo fare l'hacking degli automeccanici. Quindi possiamo disattivare il robot o le torrette. Ovviamente se avessi focalizzato la mia abilità iniziale puntando tutto su quello che mi influenzava l'hacking, avrei un punteggio più alto di questo. Adesso pensate, ho potenziato parecchio la persuasione, sono 26. Quindi che vuol dire che appena passo di livello io spendo un punto qui e vado a 36. Poi oltre un tot, adesso mi pare 50, invece aumentati di un punto alla volta. Quindi diventa un po' più lenta la progressione. Abbiamo i vantaggi che possiamo andare a sbloccare spendendo i punti vantaggi che abbiamo, che poi vanno ad aumentare a classe 2 e classe 3. e poi qua abbiamo i dettagli, l'esperienza che ci serve, l'esperienza attuale, la reputazione che abbiamo con le varie fazioni all'interno del gioco. Tra l'altro voi potete, se avete già The Outer Worlds della versione precedente, potete aggiornare solo se possedete i due DLC. Adesso non credo di poterli vedere qui, però sono due espansioni, diciamo due missioni, una su un caso e una su un omicidio su un pianeta. Se li avete, con 9,99 potete espandere, diciamo, la versione a questa qui. Quindi, non dico rimasterizzata, ma potenziata a livello grafico, a livello di level cap. Poi il gioco base resta comunque quello. Vedete, adesso io posso sparare, vedete, col rallentatore. Adesso ho speso tutti i punti, adesso mi metto male. Io ricordo che feci Boia Mondo, che botta che mi ha dato. E qua ci muoio, molto male. H-Cura, credo, ma non ho le cure. Però, come succedeva anche in... Sono morto. Devo ricaricare. Come avevo portato la prima volta nel 2019 questo titolo, voi potete giocarlo anche a modalità Supernova. La Supernova è qualcosa di assolutamente tosto. E pensate che la modalità Supernova, se voi la disattivate per esasperazione, non la potrete più attivare all'interno di quella partita, di quel save. Ed è una modalità che vi dà la possibilità di far morire i vostri compagni, perché potrete averne diversi, portarli con bene alle avventure, in modo definitivo. Inoltre dovrete mangiare, bere e dormire. Quindi c'è anche una parte survival. Però è molto difficile, molto, molto difficile. Questo tizio qui... Vedete qui? Sono già molto più... Il gioco non è facile, assolutamente. Potete lutare. Come succede in un Fallout qualsiasi? Ovviamente faccio questa spiegazione per chi non lo conosce, ovviamente, e chi non ha visto il video di qualche anno fa. Ok, ho preso il livello. Adesso vi faccio vedere anche il livellaggio, perché volevo farvi vedere quello. Va bene. Allora, qua intanto stiamo esplorando. Il mondo è molto bello, là c'è la città. Io l'ho già iniziato diverse volte. Non lo avevo per Steam. Ringrazio lo sviluppatore per avermi dato la versione Steam. Avevo la versione che è uscita per Epic Games. Quindi, grazie a questa versione qui, costa 59€ completa di tutto. Quindi avete già i DLC, avete tutto. Invece, se avete già il gioco vecchio, i due DLC, con 9,99€ la espandete. Oh, cazzo, la rola. Adesso va a finire molto male. E butto via proiettile, mi spiace. Ok, no, dovrei avercela fatta. Poi ci sono equipaggiamenti da mettere. Insomma, ci sono tanti potenziamenti da mettere. E dicevo, ci sono belle scelte anche da prendere all'interno del gioco per favorire o meno una fazione piuttosto che un'altra. C'è una buona lore, perché comunque c'è questa cosa del lavoro, del tonno in scatola che viene prodotto dall'azienda. E chi è parte dell'azienda non deve farsi influenzare dalla gente strana. Cioè, c'è molta anche politica un pochino distopica all'interno del gioco. Comunque, con Tab possiamo migliorare le abilità. Quindi, in questo caso, io posso andare a spendere questi dieci punti. Io posso prendere... Vediamo se... Potenzio per comunicazione. Penso di aver detto una cavolata. Perché? Mi aumenta di... Ok, no, 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 ok. Ho detto una cavolata. Nel senso che vedete che io posso aumentare di dieci. Cioè, aumento tutti, no? Ma quando arriviamo a un tot... E adesso ho raggiunto per soluzione 30. Una volta che arriviamo a un tot di punteggio, aumentiamo la singola abilità. Quello volevo dire, ecco. Ok. 20, hacking, ottimo. Quando... Non mi ricordo che punteggio. Però, praticamente, noi possiamo potenziarle tutte di un punto, ma dopo un tot ci farà potenziare la singola abilità. Quindi non sarà così massivo il... In pratica ogni punto sono in realtà tre punti che vengono distribuiti. Quindi non dieci, ma ne abbiamo più trenta. Qui, invece, ho dei potenziamenti modificati da tutta di vernazione che ho, oppure dal specialista operativo degli ascensori, che è una nota di background che ho potuto scegliere. Quindi io sono messo molto bene su scienza, medicina e ingegneria. Quindi a ingegneria 20 posso riparare le armi a livello 40, smantellarle per un 20% di ottenere... Beh, vuoi continuare? Sì. Non le salvo, ovviamente, perché me le voglio tenere buone, scegliere mele bene dopo. E poi all'interno della nave potremmo fare la conoscenza dell'intelligenza artificiale che c'è all'interno, che poi questa nave diventa la nostra, e potremmo poi viaggiare tra i vari pianeti, sbloccare i vari porti dove poter atterrare, dove poter fare le quest. Ovviamente c'è la possibilità appunto di seguire varie quest. Dobbiamo trovare la navicella, insomma, adesso ci sono tutte queste quest qui. Sto giocando ad ultra, benché il gioco mi consigliasse di giocare a alto. Quindi sto un po' forzando, secondo me abbassando un pochino il livello girerebbe meglio e non gira male. Ovviamente quando ci sono tante unità a schermo soffre un po' di più. Comunque, dicevo, offerta di lancio da quando è uscito, è uscito a 47 euro in gioco. Ma calcoliamo lo prezzo pieno. Se non lo avete, lo volete prendere, non è in promozione, costa 59. Magari poi sui siti lo trovate, che consiglio, lo trovate anche a meno. Però il gioco è bello, ha il netto delle recensioni negative che ha su Steam per la mancata ottimizzazione, che sono cose che comunque risolveranno. E il gioco non è assolutamente male. Anzi, su internet ho letto anche che c'è gente che ci è rimasto male perché fa è un gioco veramente bello, però cavoli, forse è stato più lungo. Quindi se non volete neanche cose che vi impegnino per migliaia di ore, questo potrebbe essere buono. Allora, c'è gente che lo ha finito in 12 ore, ma in realtà io l'ho provato, l'ho giocato un po', ma anche rigiocandolo altre volte, perché ogni tanto mi veniva voglia, lo ricominciavo, poi preso da mille giochi, non riesco mai a finire ne uno, vi garantisco che 12 ore sono veramente poche, secondo me. Se correrete dritti per dritti saltando i dialoghi, forse, ma secondo me facendo le secondarie, con i vari DLC, secondo me è una quarantina di ore che ve le porta via tutte, se non di più. Ora, io con F5 posso fare un salvataggio veloce, posso provare ad abbattere quel gigante primitivo. Il problema è che qua intorno dovrebbero esserci i miei amici che mi hanno dato una mano prima contro i... e invece non mi danno una mano. La schivata c'è anche. i proiettili ne ho, quindi posso andare abbastanza tranquillo. Il gunplay non è quello di uno sparatutto, ovviamente. ok, quello l'ho ucciso. Sto un po' farmando esperienza adesso perché morirò ancora, sicuro. E' morto anche quello, fantastico, quindi ne resta uno solo. Ottimo. Pelle di primitivo su tutte cose che sono comunque utili poi per il crafting. Comunque, non ho posto particolari enfasi sulla parte del gameplay perché il gioco lo avevo già portato nel 2019 e volevo solo portarvi questa novità. Il fatto che hanno rifatto il gioco con grafica migliorata. Ci sono i due DLC anche abbastanza grossi. Adesso magari vi dico anche il nome perché sono Pericolo su Gorgone e Assassino su Eridano che sono i due DLC. Prendendo questa versione avete tutto gratuito, cioè tutto incluso. Se possedete la versione base e acquistate questi due giochi potete aggiornare la versione con la grafica migliorata a 9,99. Calcolate che se avete già il gioco base perché lo avevate preso i tempi non lo avete giocato. Volete prendere il pass delle due espansioni costa circa entrambe parlando sempre di stimma sui 18 euro il pass con i due DLC e quindi 18 euro più 10 euro 29 euro più o meno 28 euro quindi valutate voi se ne vale la pena. Sicuramente a livello grafico è carino ed è senz'altro migliorato rispetto a prima rispetto a quella che era la versione iniziale è un fallout un po' diverso cioè ci sono i viaggi nello spazio ci sono varie fazioni ci sono tante scelte da compiere tanti oggetti da lotare oggetti da potenziare statistiche delle armi armi comunque armi lunghe armi veloci armi bianche l'hacking lo scassinamento lo stealth tante cose insomma quindi fatemi sapere che cosa ne pensate ditemi anche se lo avete preso se siete tentati se non lo sapevate insomma se il video vi è stato o meno in qualche modo utile fatemi sapere alla prossima e ciao ciao